Il primo evento del 2021, la Coppa Italia, un evento importante, un evento che poi viene svolto in una città come Bologna. Ringraziamo Segafredo, ringraziamo Zanetti per dare la possibilità al basket femminile di avere una visuale così bella e giocare in basket city è sempre una grande cosa. Per la prima volta siamo a testa di serie numero uno e vogliamo riuscire ad esprimerci al meglio. Siamo pronti ad affrontare questo evento nel migliore dei modi, sapendo che ogni partita è difficile. Già la prima partita incontreremo San Martino di Luperi che è una squadra che è sempre stata ostica ed è un derby. Poi ci sarà la semifinale e la finale il lunedì che si riesce a fare anche in un giorno particolare che è il giorno della donna. Così speriamo di poter festeggiare al meglio la giornata della donna e questo evento che speriamo sia un evento molto bello per tutti. E poi se vincente saremo ancora più contenti. Giocando così spesso le chiavi, il roster, avere un roster con più giocatrici in modo tale da poter essere pronti per giocare tre partite in pochi giorni. Poi un'altra chiave è l'intensità perché è una delle cose più importanti in queste partite, riuscire a tenere un'alta intensità perché ogni squadra sono partite secche, dentro fuori e non si può mollare un attimo ed è sempre essere al 100%. Grazie per la visione! Grazie per la visione!